Slomo Venezia, Sonderkommando Auschwitz. La verità sulle camere a gas, una testimonianza unica. La prefazione è di Walter Veltroni. Il libro è edito da Rizzoli e lo potete trovare nelle migliori librerie. Si tratta della testimonianza lucida, quasi distaccata, ma precisa, puntuale, di quello che è accaduto ad Auschwitz quando là dentro era rinchiuso lo stesso Slomo Venezia. La lettura di questo volume è consigliabile a tutti, per conoscere, per sapere esattamente cosa è accaduto ad Auschwitz e per testimoniare la verità, in definitiva per fare in modo che quel che è accaduto lì non si ripeta ancora.